Buongiorno e ben trovati in questa edizione di Mattino 6, mercoledì 16 gennaio 2019. Primo appuntamento per quel che ci riguarda, per sfogliare i quotidiani locali, per vedere le prime pagine nazionali e rivedere alcuni dei servizi realizzati dal Tg6. Grande attenzione chiaramente all'operazione dei carabinieri con la pista che porta anche all'uccisione dello sfortunato Alessandro Neri, avvenuta la scorsa primavera, lo scorso marzo. Andiamo con le prime pagine dei quotidiani locali, prima del centro edizione di Pescara, delitto Neri, 6 arresti per armi e droga, in carcere anche i due fratelli in Solia e spunta anche una pistola. Sotto la testata, regionali Abruzzo, Movimento 5 Stelle e centrodestra. Di Maio, tre giorni in Abruzzo e per Marsiglio torna Meloni. E poi ancora per la politica, legnini dai sindaci del cratere, lista di Matteo, due ricorsi. Scendiamo, siamo a centro pagina, strade, giornata nera, schianti con feriti su A14 e circonvallazione, due incidenti in poche ore tra Pescara e Francavilla. I richiami, Pescara più vigili urbani sulle strade della Movida, l'appello SOS di un papà, Pescara Curi, mio figlio malato. E poi ancora studenti penalizzati, autobus vecchi a Torre, protesta di 131 famiglie. E poi ancora notai sotto processo, citati 380 testi, oggi udienza a Pescara sulle elezioni contestate alla BCC in tre sul banco degli imputati. E poi ancora intervista al manager Iacovone, il manager della Ernst & Young. L'impresa e la sfida digitale, l'Abruzzo deve accelerare, oftalmologia, il laser contro la lacrimazione, commendio nazionale a Pescara. E poi il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, Belen, accontenti Corona, torni da lui dopo l'ultima dichiarazione d'amore appunto di Corona. E siamo all'edizione di Chieti del centro, droga scoperta la lista dei clienti. Chieti, 50 nomi sulle agende sequestrate alla coppia finita in carcere. Poi ancora abbiamo parlato di questa giornata davvero brutta sulle strade, maxi tamponamento con quattro auto, paura nella galleria Le Piane. Incidente appunto sulla circonvallazione. I richiami Chieti, via Colonnetta, Frana, l'asfalto scivola a Valle. E poi ancora a Vasto il direttore Polo Culturale, il Tar, blocca la nomina. E poi ad Atessa, stage alla Sevel, partono i corsi per gli studenti. E torniamo alla cronaca, assalto al Bancomat, due condanne, il colpo fallito e la sparatoria a piene d'archi, pene pesanti per i pugliesi coinvolti. E poi ancora il centro edizione di Teramo, l'apertura, bus vecchi e rotti, utenti a piedi. La CGL accusa la tua, a Teramo mai arrivati nuovi mezzi promessi. La fotonotizia, oggi parte il processo ai Santoleri Simone, non sarà in aula. I richiami a Teramo più telecamere per fermare gli atti vandalici. L'appalto di Tortoretto, terza inchiesta sui vertici della Ruzzoletti. Il Carnevale di Sant'Egidio alla Vibrata, manca lo spazio per fare i carri, sfilata a rischio. E poi ancora un colpo di scena al Roseto degli Abruzzi, annullata la tassa di soggiorno. Il Tribunale Amministrativo accoglie il ricorso degli operatori turistici e consiglieri di opposizione. E proseguiamo, siamo all'edizione aquilana del centro. Ecco l'apertura, lavoro e investimento dallo spazio. L'Agenzia Europea sceglie l'Aquila per sviluppare satelliti e rete 5G. E poi ancora la fotonotizia marsica alla riscoperta dei riti legati a Sant'Antonio Abate. Tutti gli appuntamenti della festa di domani. E poi i richiami, sempre all'Aquila, assicuratore sportivo addio a Colaiuda. Luco Dei Marsi, via ghiacciata, assessore ferita nell'incidente. Poi a Sulmona, vecchia tac in tilt, l'ASL corre ai ripari. E poi ad Avezzano, resta invalida dopo il parto in ospedale. Feto troppo grande per una nascita naturale, scatta la richiesta di danni. E siamo all'edizione del messaggero Abruzzo, con l'apertura ovviamente sull'operazione dei carabinieri antidroga di ieri. Armi e droga dietro il delitto neri. Sei arresti eseguiti all'alba di ieri dai carabinieri ricostruito il contesto in cui è maturata l'esecuzione. L'ordinanza, la vittima investiva denari per sostenere attività delinquenziali. E poi qui vediamo alcune delle foto inerenti all'operazione. Il capo, Ale e io, è la calibro 9 in comune. Andiamo avanti, siamo sotto la testata. Vandali a Chieti, il ride contro l'orso luminoso nei video, i volti degli autori. E poi ancora l'Aquila rinasce, turismo e cultura. 10 milioni per le imprese, bando in arrivo. Per lo sport, serie B, Pescara una vittoria per celebrare i 10 anni. Domenico è il compleanno del Delfino e all'Adriatico arriva la Cremonese. Bancoschi, il vicepresidente. Mico in bolsa e De Cecco. Tanti momenti bellissimi, alcuni difficili. Siamo di spalla, questo articolo, il bravo ragazzo con la pistola, i peccati segreti di Pescara. E siamo sempre alla pista che porta al delitto neri. Andiamo in taglio medio. La pittrice Urcisa, Ergastolo sicuro per me, scrive Santoleri Junior. Poi ancora le parole di Cesa, fascistelli, alta tensione nel centro-destra, anche rotondi contro gli ex alleati. Diventa un caso la rottura sui candidati non graditi. E poi ancora la campagna, cena con indagati, legnini e chiarisce. La strage del resort, Rigopiano, la verità sulle telefonate. E proseguiamo con la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo, che apre così il TAR, boccia la tassa di soggiorno. Guai al comune di Roseto, accolto il ricorso presentato dagli albergatori e dalle opposizioni. Andiamo sotto la testata. Legnini finisce sull'agenda dell'imprenditore arrestato. Non sapevo della sua presenza alla cena. Sanità, Atri e Santomero. La ASLE cerca due nuovi primari. Andiamo a centro pagina con la Galleria degli Orrori. Il forum dell'acqua pubblica altre immagini shock. Una serie di richiami intorno alla fotonotizia. L'omicidio neri, perquisizioni anche nel Terramano. A Giulianova ha derubato un fotografo a case di Trento. E poi presso il comune di Teramo la proposta del consigliere Lancione. Con i soldi sprecati in question time, meglio ripararci le buche. L'ampliamento nuovi loculi al cimitero di Tortoreto. E poi ancora, Popolare di Bari, pronta al rilancio. La banca potrebbe anticipare la trasformazione in SPA. E poi a piedi pagina, Teramo vandalismo. La risposta è retorica. E poi il Sant'Antonio, c'è il latte d'oro. Domenica la decima sfida con la condotta Slow Food. Lasciamo i quotidiani locali. Ora concentriamoci sulle prime pagine delle principali testate nazionali. Siamo sul Corriere della Sera. Chiaramente la bocciatura del provvedimento di uscita dall'accordo con Europa per lo sviluppo della Brexit tiene banco sulle principali testate nazionali. Brexit nel caos. May in bilico. Apre così il Corriere della Sera. La Camera dei Comuni boccia il piano. La Premier non lascio. Sfiduciatemi. Mea colpa di Juncker. Un errore l'austerità. Draghi, non c'è recessione. Serve uno stimolo. E poi ancora in taglio medio. In Kenya, in azione, un commando di Al-Shabaab. Terrore in Hotel Nairobi. L'assalto. Gli ostaggi. La strage. E poi di spalla. Film e musica. E in Italia, la base della pirateria. Furti informatici. Indagine negli Stati Uniti. E proseguiamo e siamo sulla prima pagina di Repubblica. Brexit. May sull'orlo dell'abisso. Il voto del Parlamento umilia la Premier bocciato l'accordo con l'Unione Europea. Ma io non mi dimetto, dice sempre la Premier britannica. Qui in questa foto in prima pagina. Corbyn presenta la mozione di sfiducia. Oggi il verdetto. Bruxelles non esclude una proroga. E andiamo in taglio medio. Lo studio. Reddito a rischio taglio. Assegno di 390 euro. Scendiamo in basso. La super poliziotta Battisti. Mi ha chiesto una cosa sola. Di lasciargli la foto del figlio. E poi l'inchiesta. Il paese delle baby mamme. 10.000 nell'ultimo anno. I medici servono più aiuti. La prima pagina del Fatto Quotidiano che apre con le parole del magistrato Pier Camillo Davigo. È normale esultare per Battisti. I garantisti pensino alle vittime. Intervista al fatto del togato al CSM. Dalla spazza corrotti alla legittima difesa. E poi l'evento per l'accordo sulla giustizia. Serrata inciucio. Salvini e in boschi. Il sì dei PM. Che poi fuggono. E andiamo sotto la testata. In Gran Bretagna. Brexit. Il Parlamento boccia la MEI. Resto. Corbyn presenta la mozione di sfiducia. La Camera dei Comuni. Seppellisce con 432 no e 202 sì. L'accordo con l'Europa. Poi in Israele. Gaza. Hamas. Assedia 3 carabinieri. All'ONU da oltre 24 ore. Sono rifugiati nella sede dell'UNRWA. E poi andiamo alla testata successiva. Che è appunto libero. Ecco l'apertura. Morti 10 crociar di freddo. E noi aiutiamo gli stranieri. Nessuna pietà per i nostri poveri. Lo Stato dà un tetto ai migranti. In attesa di asilo. Però non agli italiani che crepano al gelo. Clandestino scappa dall'aereo per evitare il rimpatrio. Caos a Malpensa. E poi in taglio medio. Analisa Chirico. Condanna il Movimento 5 Stelle. Di Maio non ha pretese. Gli basta tirare a campare. Poi Macron è pronto a darci tutti i criminali rossi. Conte mi scriva e ne parliamo. E poi due punti di vista sulla prima del fatto. Circa la vicenda a Battisti. Battisti e sinistra parenti stretti e indissolubili. Di Alessandro Cantoni. E poi la replica di Vittorio Feltri. Non si uccidono così neanche i vecchi terroristi. Proseguiamo e siamo sul messaggero. L'apertura Brexit. Intesa bocciata. May rischia. Londra. Il Parlamento respinge l'accordo con l'Unione Europea. Con 432 no. Strappo di 118 conservatori. La Premier salto nel buio. Allora sfiduciatemi. Oggi il voto. Juncker si va verso il no deal. E poi sotto la testata i veleni di Sanremo. Con Achille Lauro. Trasgressione trap. Polemica sul brano. Sulla pedofilia. E poi in Arabia Saudita la Supercoppa. Questo pomeriggio. Diritti civili e gol. Oggi Juve Milan. E poi via Higuain. E poi la fotonotizia. Siamo in bagno. Aiutateci. Tweet dall'hotel sotto attacco. Attentato in Kenya. Morti e ostaggi in albergo. E poi questo caso di cronaca a Roma. Meningite. Muore a 15 anni. Non era vaccinato. Riflettete. Il caso a Roma. La mamma. Questo dramma. Non sia vano. E poi sempre per la vicenda Battisti. L'ipotesi e revisione dei processi. Cacciatore di Battisti. Tradito da una pizza. Ironia social. Sul video spot. Di Bonafede. E poi ancora la prima del giornale. Spendono più di prima. altra botta alle imprese. I conti sono in rosso. Record di debito pubblico del governo gialloverde. Le banche. Stoppa i fondi privati alle aziende. Poi trema la Gran Bretagna. Brexit accordo bocciato. Uno schiaffo storico. May appesa ad un filo. Le mosse del terrorista. Battisti ora fa il furbo. Sono stanco e malato. E scatta il soccorso rosso. Proseguiamo. E siamo sulla prima pagina del mattino. Brexit bocciato. L'accordo. May rischia. Non lascio. Il Parlamento inglese respinge l'intesa con l'Unione Europea. La folla esulta Westminster. Oggi il voto sulla sfiducia alla Premier. Juncker. Londra. Verso il salto nel buio. E poi gli altri battisti. Gli altri latitanti in giro per il mondo. Pesca. Ristoranti. Libri. Affari. La dolce vita dei super latitanti. E qui vediamo una foto di, lo leggiamo nella didascalia, il terrorista Casimirri. Il latitante in Nicaragua. E poi in taglio medio, terrore ad Afragola e guerra tra cosche. Otto bombe in un mese. Il racket imposta ai negozianti da più famiglie. Il governo. C'è un escalation. Interverremo. Proseguiamo. E siamo sulla prima del sole 24 ore. Che apre con le parole del presidente dell'ABC Mario Draghi. Servono sostegni monetari. L'economia sta rallentando più dell'attesa. Recessione. Abbiamo gli strumenti. Il mea culpa di Juncker su austerity e Grecia. Troppa importanza al Fondo Monetario Internazionale. E poi la foto appunto della premier britannica May. Brexit sconfitta pesante della May bocciato in Parlamento. L'accordo con l'Unione Europea. E siamo sulla prima del manifesto. Che apre così comuni mortali. La disfatta di Teresa May. La Camera dei Comuni boccia il suo accordo. Negoziato con Bruxelles 230. I voti di scarto. Governo nel caos. E paese spaccato a metà. Corbyn ne approfitta oggi. La mozione di sfiducia. Brexit. In un vicolo cieco. Proseguiamo. Sotto la testata. Austerity. Juncker ora è pentito. Il Presidente della Commissione dice con la Grecia poco solidali. Siamo sul tempo. La prima pagina che riprende appunto proprio le considerazioni di Juncker. Abbiamo spezzato le reni alla Grecia. Juncker lacrime di coccodrillo alla fine del mandato. Con l'austerità si è esagerato. Ma la BCE se ne frega e prosegue l'opera sulle banche italiane. Salvini attacca Draghi. A proposito c'è questa foto con l'espressione romanesca nel tempo di Oshut. Citu Motenesci. Questa espressione attribuita in maniera ideale al primo ministro greco Tsipras. Qui con Juncker. Proseguiamo. Siamo alla fotonotizia centropagina. Corona. Belen. Ti amo. Dichiarazione appassionata. Mettiamo su famiglia. E proseguiamo. Siamo sulla verità che apre così per la sinistra. Il terrorista è Salvini. L'arresto di Battisti li manda fuori di testa. Grande indignazione dopo l'esultanza del ministro paragonato all'assassino dei PAC. Nessuna autocritica per le inqualificabili frasi a difesa della violenza rossa. E Napolitano salta sul carro. La fotonotizia. La Germania frena. L'UE scopre che l'austerità fa male. Il vicepremier attacca il BCE. Danneggia le banche italiane. E poi, in taglio medio, Babbo Renzi presi i soldi e mandò a Palazzo Chigi il giudice arrestato. Intanto arriva la querela per i conticini. L'indagine Unicef non finirà in nulla. Proseguiamo. E siamo sulla prima della stampa. Brexit. I no travolgono la Premier May. Io resto. Sfiduciatemi. La mozione bocciata. 432 contro 202. Juncker. Non c'è tempo. Londra decida. Più vicina all'uscita dall'Unione Europea senza un accordo. E poi, ancora, in questa foto, in prima pagina, jihadisti fanno strage a Nairobi. Siamo sulla prima del secolo d'Italia. Serve il bazooka. Draghi difende il bazooka. Lo stimolo monetario è necessario per sostenere l'aumento delle pressioni dei prezzi interni e gli sviluppi dell'inflazione complessiva. E chiudiamo con l'avvenire che apre così il vero terremoto. Nuove scosse in Romagna, ma dopo anni tutto il centro d'Italia devastato è vittima di una ricostruzione lenta e inefficace da Amatrice alle Marche. Paura e pochi danni a Ravenna. Nelle altre zone colpite nel 2016. La situazione è drammatica. Poi la fotonotizia Kenya. Assalto di Shabab. Il terrore a Nairobi. Almeno sette vittime nell'attacco a un hotel. E poi Brexit. No inglese all'intesa. May bocciata dalla camera. Lasciamo i quotidiani nazionali e torniamo sui locali. Siamo a pagina 2 del centro. La politica in primo piano di Maio. Tour di tre giorni con Marcozzi. Prima la commemorazione delle vittime di Rigopiano. E poi tappe in tutte le province per illustrare il programma dei 5 Stelle. E poi ancora in taglio medio le parole del leader della DC Rotondi. Io minacciato ma l'Abruzzo non c'entra. E poi ancora in basso e per Marsiglio torna in campo Meloni. Anche lei sarà a Rigopiano e la Lega punta a riempire la platea della convention di domenica. Sempre sul fronte delle imminenti regionali. Legnini incontra i sindaci del cratere. Il tema chiave è quello della ricostruzione dei fondi da stanziare. Il confronto con i primi cittadini domani a Fossa. E poi la replica a Lega e 5 Stelle. Sui magistrati arrestati ribatte attacchi strumentali su di me. In basso lo scontro tra Carlo Masci e Donato Di Matteo. Sul simbolo della lista di riferimento dell'ex assessore regionale. Lista Di Matteo. Sono due ricorsi. Il primo chiede di riammettere i candidati di Chieti. Il secondo di escluderli tutti. Proseguiamo. Siamo sulla pagina Abruzzo. Adesso addio lacrimazione grazie a un intervento con laser innovativo presso l'ospedale di Pescara. Alta tecnologia nel reparto di oculistica. Sabato congresso nazionale sulle tecniche mini invasive. E poi ancora patto per le donne per la regione. Il documento sarà sottoposto alla firma dei candidati presidenti. Poi ancora in basso sorveglianza marittima. Vertici all'Aquila. Molte istituzioni presenti alla conferenza di Merdi su un tema strategico per l'Europa. Avanti ancora. Abbiamo visto già in prima pagina l'impresa e la sfida digitale. L'Abruzzo deve accelerare. Donato Iacovone. L'amministratore delegato di Ernst & Young in Italia è coautore di uno studio sulla nuova rivoluzione tecnologica. Porterà molto lavoro ma occorre farsi trovare pronti. Siamo sulle pagine di Pescara. Neri si stringe il cerchio. Sei arresti per armi e droga. Le parole del colonnello Riscaldati. Tappa importante per le indagini sull'omicidio. Poi ancora prosegue il comandante dei Carabinieri. Scoperchiato il mondo di cui Alessandro faceva parte in maniera collaterale. Ma le indagini seguono altri ambiti legati ai soldi. Poi ancora l'appello lanciato ieri dalla madre di Alessandro Neri. Si ripulisca la città. Laura Lamaletto ringrazia gli inquirenti. Grande lavoro e dedizione. Confido in loro. Poi ancora altri dettagli sulla operazione che è arrivata al cumine con gli arresti di ieri mattina. La cosa più cara che ho è la pistola comprata con Ale. Junior in solia intercettato dai Carabinieri parla di continuo di armi raccontando anche l'affare con l'amico Nerino. Ci dobbiamo giocare la vita per 2.000 euro. Io me la gioco di andare carcelato per sta macchina. Ci dobbiamo sparare. Sono altri passaggi nelle intercettazioni. Recupero sul fronte estorsione per l'auto. Poi recupero crediti. Senti il ferraccio. Ti devo scarrellare il ferraccio. Dammi un po' di soldi. E poi la preoccupazione di dove lasciare la pistola. Queste anche le foto delle persone, dei giovani coinvolti nell'operazione. Ma vediamo il servizio realizzato ieri dal Tg6. Il servizio curato firmato da Alfredo Primante. Alessandro Nerio aveva una visione anche ambiziosa che puntava a fonti di reddito anche attraverso attività alcune certamente lecite e altre un po' al limite della liceità. La contiguità e la contiguità con le persone che oggi sono state arrestate in qualche modo fa ritenere che ci fossero anche delle compartecipazioni di carattere economico soprattutto. Era coinvolto anche Alessandro Neri nel giro di spaccio di stupefacenti sgominato dall'operazione dei carabinieri di Pescara che ha portato all'arresto di sei persone indagandone altre dodici. Per i carabinieri era attento e premuroso ma contiguo al mondo dello spaccio pescaresi Alessandro anche se non ci sarebbe alcun collegamento con il suo omicidio avvenuto a colpi di pistola lo scorso 8 di marzo in un torrente della periferia di Pescara a pochi passi dal cimitero, tre giorni dopo essere scomparso. Gli investigatori infatti hanno spiegato che il ragazzo avrebbe avuto il ruolo di finanziatore del giro di spaccio nel capologo adriatico forse per aiutare economicamente la famiglia. A collegarlo agli arrestati, una pistola acquistata assieme a Junior Insolia. Dalla indagine emerge anche e ciò è scritto nel provvedimento di custodia cautelare che la vittima Alessandro Neri aveva partecipato almeno a quanto risulta dalle risultanze che sono provenienti dai comportamenti e dagli atteggiamenti degli arrestati, in particolare di uno degli arrestati che aveva effettivamente comprato insieme ad un altro arrestato che è appunto Insolia Junior una pistola. L'operazione denominata Satellite ha preso il via proprio dalle indagini sulla morte del ragazzo di Spoltore e il suo nome deriva dal fatto che esistevano diversi e numerosi poli di spaccio collegati tra loro come se fossero dei satelliti. Il volume di affari accertato degli inquirenti era di decine di migliaia di euro la settimana, i gruppi che gestivano il giro di droga erano pericolosissimi per l'uso spregiudicato delle armi e per la facilità intimidatoria con la quale si approcciavano al mondo della droga. Erano dediti abitualmente a girare armati con pistole e hanno dimostrato anche di avere una disponibilità che nel tempo si è affermata di armi anche di diverso tipo e di diverso calibro. In manette sono finiti Junior e Jordan Insolia, Marco Lapenta, Giulia e Flaviano Spinelli e Cristiana De Santis, tutti con precedenti. L'inchiesta, al di là del suo valore attuale, costituisce un tassello importante per far luce sulla morte di Alessandro Neri, ancora avvolta nel mistero. Pensiamo di avere in qualche modo messo a fuoco una parte importante dell'indagine e quindi in questa direzione continueremo a scavare, continueremo a investigare perché su questo delitto si possa fare piena luce. sempre le pagine di Pescara sul centro, processo a Trennotai, citati 380 testimoni, Butta, Faieta e Mastro Berardino accusati di falso tra i nomi convocati in tribunale, Sebastiani, Sciarra, Cordoma e Pagliaroli. E poi ancora in taglio medio, Parco del Lavino, notificati i sette avvisi, il letto monopello, la procura chiude l'inchiesta, coinvolti Di Marco e Dincecco. Proseguiamo, vigili più controlli nelle vie della Movida, Maggitti, l'avvio del servizio di vigilanza privata nell'area di Risulta ci consente di utilizzare più uomini in altre zone. Proseguiamo, un papà disperato, riportate in Italia mio figlio Leocemico Montanaro, disoccupato, lancia un appello, non posso pagare le cure in Russia, mi aiuti l'ospedale di Pescara. Pagina 19, schianto sulla 14, 43enne in ospedale, auto in coda per ore, paura ieri mattina sull'autostrada per un tamponamento tra il furgone di un corriere ed un auto articolato. Le pagine di Monte Silvano con il pieno di riqualificazione in primo piano, scuole elementari, lavori conclusi in primavera, cantieri aperti in via Adda e via Almirante, la media delfico interventi sui solai, presto gli arredi nell'asilone nei tre plessi del comprensivo Verrocchio. Di spalla leggiamo, via Roma ha affidato l'intervento per rifare strada e marcia a piedi, il cantiere da 170 mila euro aprirà a breve, appena le condizioni in meteo lo permetteranno. Le parole dell'assessore Cozzi, riqualifichiamo la zona che è il biglietto da visita della città. A Spoltore arriva lo stop al maxirisarcimento, il Consiglio di Stato congela la decisione del commissario ad acta sul pagamento di 2 milioni da parte del Comune alla famiglia di Gregorio per un'area a Villa Raspa. E sempre a Francavilla ancora un incidente, tamponamento a catena all'uscita della galleria. Abbiamo le immagini, eccole qui, ve le possiamo mostrare, continuando anche a leggere quanto riportato dal centro, incidente con quattro auto ieri sera alle piane, un 54enne ferito non gravemente, paura anche nel pomeriggio, la stessa area avvolta da una coltre di fumo. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che lo scontro sia stato provocato dal rallentamento di uno dei veicoli che voleva consentire il passaggio di una autoambulanza che sopraggiungeva. Lo scontro ha visto coinvolte due utilitarie, una monovolume Opel Combo e un furgoncino Iveco Daily. Ad avere la peggio è stato un uomo di Pescara di 54 anni, trasportato all'ospedale di Chieti, anche se le sue condizioni fortunatamente non sembrano preoccupanti. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Chieti per i rilievi del caso e lo smaltimento dei due chilometri di coda che si era appunto creata a causa di questo maxitamponamento. Possiamo rientrare sui giornali e siamo in Val Pescara, in particolare a Torre dei Passeri. Mamme furiose, 131 firme per i bus vecchi, petizione delle famiglie, degli studenti pendolari di servizi sulle linee per Sulmona. Tuasi scusa e assicura nuovi controlli. In taglio medio torniamo alla vicenda Rigopiano. Lo sappiamo peraltro dopo domani saranno due anni da questa triste nefasta ricorrenza. Rigopiano una scena da incubo, impossibile scordare quella notte. il racconto di uno dei primi soccorritori, si tratta di Fabio Pellegrini, istruttore di sci alpinismo di Loreto Aprutino. Poi ancora altri sviluppi sul fronte giudiziario, due telefonate ignorate dalla prefettura inascoltata, non solo la chiamata di Gabriele D'Angelo alle 11.38, ma anche quella dell'amico delle 14.48. Proseguiamo e siamo alle pagine di Chieti. 50 clienti sulle agende della droga, la giovane coppia con due chili di ascice e cocaina, la polizia passa al setaccio. Nomi e cifre annotati su tre block notice. Poi sempre a medesima pagina di Spalla, la denuncia del sindaco inquestura, i danni dei vandali in città e un bollettino di guerra. Siamo ad Atessa, gli studenti alla Sevel per scoprire il lavoro, allievi da tutto l'Abruzzo per due anni di stage alla fabbrica del Ducato, coinvolti i ragazzi dell'ITS e così i giovani si preparano al mondo produttivo. E poi il lutto che ha colpito l'editoria in questi giorni, oggi l'ultimo saluto alla netta, il fondatore di Antena 10, il cordoglio del giornalismo, funerali stamani alle ore 11 alla cattedrale della Madonna del Ponte a Lanciano. Proseguiamo, assalto al Bancomat, due maxi condanne, il colpo fallito, la sparatoria contro i carabinieri e piene d'archi scattano pene fino a 6 anni e 4 mesi per i pugliesi in azione. Le pagine di Teramo, trasporto pubblico, la CGL accusa, bus vecchi e usurati saltano le corse, il sindacato segnala problemi a gestire il servizio per la carenza di mezzi, mai arrivati i nuovi promessi da tempo. Poi di spalla, zopro filiattico scaduto il DG, Matteo li saluta, Di Pasquale lo ringrazia, grandi risultati. E poi ancora Santoleri via al processo, ma Simone non ci sarà, oggi prima udienza per padre e figlio accusati di aver ucciso ex moglie e madre, il giovane detenuto a Lanciano ha comunicato che non sarà presente in aula. Poi ancora sicurezza, il dibattito in consiglio, a Teramo comune, pugno duro contro i vandali tra gli obiettivi dell'amministrazione e l'installazione di nuove telecamere nei punti sensibili come la Villa e Piazza Sant'Anna. E poi in taglio medio le parole di Franco Fracassa, il consigliere Franco Fracassa, il sindaco doveva salutare Salvini e d'Alberto replica, se torna dopo le elezioni lo incontro per parlare di problemi e niente selfie. Ad Atri via libera allo sdoppiamento dello Zoli, dal prossimo anno scolastico nasceranno un istituto superiore tecnico-professionale e un polo liceale. E poi ancora la sentenza, come detto, clamorosa, il Tar annulla la tassa di soggiorno, accolto a sorpresa il ricorso di albergatori e opposizione tra i motivi dell'accorpamento degli emendamenti della minoranza. Tutto questo per il comune di Roseto degli Abruzzi. E chiudiamo con le pagine aquilane, chiudiamo la prima parte di mattino 6 con le pagine aquilane del centro con l'ESA investimenti e occupazione. L'Agenzia Spaziale Europea sceglie l'Aquila per sviluppare la tecnologia satellitare e la rete terrestre del 5G. Il sindaco Biondi dice è importante il ruolo dell'università in Italia. Le uniche sedi individuate sono nella nostra città e a Roma. Per le imprese si tratta di una grande opportunità. E poi ancora, nell'Alto Aterno, a due anni dal sisma, gli onori di Campotosto all'esercito, al Ministro della Difesa 30. Oggi viene conferita la cittadinanza onoraria per il ruolo dei soldati nell'emergenza. E poi ancora, ad Avezzano la denuncia con richiesta da anni resta invalida dopo il parto in ospedale. Feto troppo grande per una nascita naturale. Una 27enne subisce gravi lacerazioni e danni biologici permanenti. L'Avvocato Federici aggiunge ci sono state ripercussioni sulla vita quotidiana e anche la sfera intima della mia assistita è stata fortemente compromessa. E poi il padre dello chef. Un dolore immenso. La tragedia nell'hotel di Pescasseroli. Oggi l'autopsia su Ferreri si fa strada all'ipotesi del malore. Ecco qui la foto del giovane chef morto nell'hotel a Pescasseroli. Ci fermiamo. Finisce qui la prima parte di Mattino 6. Previsioni del tempo, pubblicità e poi ci ritroviamo qui per sfogliare le pagine di messaggero Abruzzo e la città. Di nuovo buongiorno. Seconda parte di Mattino 6 che apriamo con le pagine del messaggero Abruzzo. Chiaramente spazio ancora alla politica e alle imminenti regionali. Le spine della campagna, dice appunto il messaggero. L'attesa di Matteo è scontro. Udc lega al ricorso per l'uso del simbolo. Si lega la sorte del centro-sinistra. Cesa furioso con l'ex alleato. No ai condizionamenti dei fascistelli. Duro anche rotondi. Lo scudo crociato escluso dalle manifestazioni non è un caso locale. Deciderà Berlusconi. E poi in taglio medio. Marsiglio a Chieti. L'Ateneo argine allo spopolamento. L'ex numero due del CSM domani a Fossa per parlare di ricostruzione. Sara Marcozzi incontra gli infermieri. E poi in basso Giulia Donatelli. Slalom verso l'emiciclo. Maestra di sci. 24 anni di Pesco Costanzo. Un papà in politica. Corro con Salvini per superare i gap dell'Abruzzo. Qui proprio la candidata Donatelli con il leader della Lega Salvini. Le pagine di cronaca di Pescara. Ale ucciso per droga. Sei arresti dall'indagine per l'omicidio di Alessandro Neri. Spuntano conferme sul filone del traffico di stupefacenti a San Donato. Finiscono in carcere i fratelli Jordan e Giulio Rinsolia con altre quattro persone. decisive le intercettazioni. Operazione satellite. Così i carabinieri hanno scavato nel contesto in cui a marzo scorso è maturato il delitto coinvolto. L'amico con cui Nerino aveva comprato una pistola a calibro 9 mai ritrovata. Il colonnello Marco Riscaldati aggiunge continueremo a indagare per scoprire l'assassino. Quest'arma mi lega a lui la frase che tradisce il capo. A quello gli sparo la legge della banda per recuperare i crediti in questo contesto. Il possibile passo falso della vittima. E poi ancora sempre a Pescara più pattuglie di vigili per la Movida. Teodoro e Maggitti annunciano una nuova fase operativa dopo l'approvazione del regolamento di Polizia Municipale. Alessandrini non ho compreso i motivi dei contrasti sul testo in aula. Dura risposta a sindacati e opposizione. Il maggiore Danilo Palestini nominato vicecomandante. Presto possibili nuove assunzioni. Andiamo a vedere il servizio del Tg6. Il nuovo regolamento della Polizia Municipale di Pescara è passato con 18 voti favorevoli e 6 contrari. La maggioranza di centrosinistra alla fine si è ricompattata e dopo diverse fumate nere ha portato a casa il testo tanto criticato dalle sigle sindacali dei vigili urbani. Come ha sottolineato ieri in Consiglio Comunale il comandante Maggitti, il testo consentirà una maggiore operatività della Polizia Municipale andando incontro ai desiderata dell'assessore Teodoro e alla legge che dal 2013 imponeva un nuovo regolamento al Corpo di Polizia Cittadino mettendosi così al riparo anche da un'eventuale perdita dei finanziamenti regionali. Questo regolamento segue di fatto il precedente. Non vi sono novità sostanziali ma attraverso queste nuove leggi che modificano alcune realtà del regolamento. Noi abbiamo costituito ad esempio un gruppo speciale di cosiddetto gruppo Giona con 13 uomini più di cui il responsabile che lavorano in borghese, che lavorano con mezzi civetta e che si occupano prevalentemente di queste forme di reato che fanno parte dei nostri giorni, dei nostri tempi. Senza snaturare però il valore e del ruolo della Polizia Municipale. Noi non dobbiamo cercare di scalzare ciò che ci sembra superato, che non lo è affatto, e lasciare soltanto spazio alle nuove realtà. Dobbiamo, e così abbiamo fatto, coniugare queste realtà tutte assieme, proprio per dare un regolamento al passo con i tempi. Se da un lato la maggioranza è soddisfatta, restano le critiche delle opposizioni. Con Forza Italia e Movimento 5 Stelle sul piede di guerra, che annunciano la riscrittura totale del testo in caso di vittoria alle prossime amministrative di primavera. Come detto, sono contrari al testo anche i sindacati che avevano inviato nei giorni scorsi una lettera aperta a tutti i consiglieri comunali chiedendo di non approvare il regolamento e di apportare modifiche sostanziali. Contestati soprattutto ruoli, gradi e turnazione, oltre alla troppa discrezionalità in capo al comandante, già si annunciano ricorsi al TAR da parte di agenti e sindacati. Ancora la vicenda a Rigopiano sul messaggero, telefonate fantasma, ecco la verità. D'Angelo, cameriere dell'hotel Rigopiano, chiamò alle 11.38, mentre alle 14.48 un amico contattò per lui la prefettura. L'indagine è visto sul depistaggio, ricostruito dai carabinieri forestali, il rebus delle chiamate cancellate dai brogliacci, responsabili del cocco di penne della Croce Rossa, scagionati dall'accusa di omissioni. E poi in basso, Spumantitalia, Pescara capitale, delle bollicine, venerdì e sabato degustazione del Museo delle Genti, Valentino Di Campri. Un'occasione per l'Abruzzo. Siamo alle pagine aquilane, sul messaggero di Cosimo e Federico con l'Iris, ormai rottura con Forza Italia. Le regionali cambiano gli equilibri, dopo il vuoto possibile un rimpasto, Fratelli d'Italia avverte il vice sindaco, tutto il gruppo sostiene Luca Ricciuti, dopodomani fitto in città per benedire il progetto di direzione Italia in consiglio. Poi ancora, turismo e cultura arrivano 10 milioni. Il tesoretto è destinato al sistema dell'impresa del territorio, i programmi dovranno essere finiti entro massimo 18 mesi, i progetti dovranno essere presentati online dal 5 febbraio. Il portale dedicato sarà consultabile dal prossimo 25 gennaio. La presentazione a Palazzo Fibbioni davanti a una vasta platea di operatori del settore. Siamo nella Marsica Ceglie. Che gioia bacchettare l'Udc. Il segretario cittadino del Partito Democratico approfitta del Summit Donorione per intervenire. Oggi c'è Legnini. Ora tutti si scandalizzano di Gerosolimo, ma nessuno per quei passaggi da una maggioranza all'altra. Di Pangrazio ci sarà, nonostante il noto infortunio capitato all'emiciclo. Ecco qui la mano fasciata per Giuseppe Di Pangrazio. Proseguiamo e siamo alle pagine di Chieti. Danni all'orso luminoso, i volti dei vandali in quattro video. I vigili stanno acquisendo le immagini delle telecamere per identificare gli autori. Il sindaco di Primio ha presentato una denuncia alla procura per tali atti. Uno studente di liceo di 17 anni, la mente del posto su Facebook in una mail ha scritto di aver scherzato con i compagni di classe. Poi a piedi pagina quei 70 invisibili accolti in famiglia tra gli ospiti, una coppia di Chieti con due figli, notti al freddo in una roulotte dopo lo sfratto. A Lanciano, o meglio nel comprensorio frentano, spari e assalto alle poste. Maxi condanne la gang di Pugliesi prese di mira il bancomat di Piene d'Archi, poi la sparatoria con i carabinieri nella notte tra il 5 e il 6 maggio. 6 anni e 4 mesi a Francesco Red Davide, 34 anni di Cerignola, quasi 5 anni di pena a Cristoforo Aguilar, 36 anni di Orta Nova. E poi a Ortona, sfregiati dai graffiti il teatro e la passeggiata orientale, i writers deturpano con frasi o disegni i muri e le colonne di marmo degli edifici della città. Le pagine di Teramo, Mattioli lascia lo zoo profilattico, leader nazionali nella ricerca. Cambio della guardia, subentra il facente funzione Nicola D'Alterio, la sfida lanciata dell'innovazione, le parole di Manola Di Pasquale, continueremo nel solco dello spirito di squadra, stabilizzati tanti precari, dice il presidente dell'istituto zoo profilattico. Torno all'università a fare il docente, sono arrivato nel 1982 e già questa struttura era all'avanguardia. Proseguiamo in taglio medio, cartelle pazze di Moetta richiesti più controlli, tutto questo nel comune di Teramo, visita di Salvini, la polemica su selfie e bella ciao, il sindaco poteva incontrare prima la carica istituzionale. Come detto si apre quest'oggi il processo per il delitto della pittrice Renata Rapposelli. Simone, per me è già ergastolo, si apre oggi il processo contro il figlio e l'ex marito della pittrice Renata Rapposelli e lui scrive al messaggero, hanno in mio padre il testimone che cercavano per condannarmi ma la farò finita e i miei organi donati. In aula il meglio dei periti come Denti, Melluzzi, Nicotera e Sciarra. E poi ancora in taglio medio il pesce locale nelle menze scolastiche, sette comuni interessati, sinergia con la flotta e marineria locale, tutto questo in comuni della Val Vibrata. Lasciamo il messaggero, andiamo ora sulla città e partiamo da pagina 5. La ASL cerca altri due primari ospedalieri, imminenti le selezioni per ostetrice e ginecologia a Sant'Omero e per ortopedia ad Atri. Radiodiagnostica, deserto invece il bando per assumere medici specializzati appunto in radiodiagnostica. Sul fronte del San Liberatore di Atri, sempre Atri in chiusura il bando per la selezione del nuovo primario del reparto di chirurgia generale. Siamo a pagina 6, popolare di Bari pronta al piano di rilancio, trasformazione in S.P.A. più vicina, anche anticipando l'esito del ricorso al Consiglio di Stato sulla riforma. Pagina 7, omicidio neri, perquisizioni nel Terramano, 6 mandati d'arresto per reati connessi allo spaccio di cocaina, impegnati oltre 100 carabinieri. Pagina 8, tappiamoci le buche con i soldi del question. Il consigliere civico Lancione si dice depresso dallo spreco del gettone per la qualità delle interrogazioni. Pagina 9, vandalismo, la risposta per ora è retorica. Il sindaco annuncia più vigili, più illuminazione, più telecamere, più sanzioni, ma non ci sono fondi. Pagina 10, con la nota della CGL, bus tua logori e corse soppresse. La denuncia della CGL sullo stato del parco mezzi circolante dell'officina in provincia di Terramo. Avanti ancora, pagina 11, domenica la decima sfida dell'Uccellat d'Oro, la manifestazione Slow Food per la salvaguardia della tradizione culinaria, incassa il patrocinio del comune. Invece a Cermignano, tre giorni di festa nel paese degli Uccelletti di Sant'Antonio, il servizio. Qual è il programma della 25esima edizione dell'evento? Noi promuoviamo questa manifestazione che è legata essenzialmente ai candidi di questo nelle ricorrenze di Sant'Antonio, che come tutti sanno è il protettore degli animali domestici, non di tutti gli animali, di quelli domestici e dei protettori dei contadini. Un culto che si perde nei tempi e anche i candidi di questo si vedono nei tempi perché ci traccia dei candidi di questa, lo cita Ovidio già nell'era latina e successivamente molti ne parlano anche in Medioevo. I candidi di questa erano le compagnie di questo che Sant'Antonio organizzava per raccogliere mezzi, alimenti per sostenere i propri confraterli. Le compagnie erano composte appunto da persone che pregavano, portavano la benedizione del santo e cantavano. Gli strumenti essenziali erano pochissimi, non quelli di oggi, delle nostre orchestrine ben attrezzate, era l'acciarino e il campanello, soprattutto il campanello era il segnale che quella compagnia era una compagnia legittima, cioè sotto la protezione di Sant'Antonio. Ma lo scopo, le finalità e l'intendimento del candidato di questo anche oggi è per ottenere qualcosa. I nostri gruppi vengono a cantarci e a dietrare le serate perché la fine ottengono un riconoscimento. Pagina 13 sulla città, nell'acqua anche bombolette, spray e inerti dopo il servizio del TG3, il Forum dell'Acqua rivela altre contaminazioni nella condotta sequestrata. Secondo il Forum la situazione non sarebbe migliore nei tubi che passano sotto le canne autostradali. Siamo a pagina 14, arriviamo in Val Vibrata, Tortoreto, nuovi loculi al cimitero di Tortoreto, approvato il progetto definitivo per l'ampliamento del Camposanto Comunale. Dopo la realizzazione di 40 loculi provvisorie, ne saranno realizzati altri 80 definitivi. A Giulianova l'ospedale torna al centro del dibattito, anche azione politica interviene sui servizi sanitari di Giulianova. A Roseto degli Abruzzi recchiuti faccia un'opposizione reale. Dura replica di Roseto al centro alle parole del consigliere di Futuro In. Ci sono gruppi legati ai volponi della politica che parlano di unità ma fanno accordi con il PD. Sono queste le parole di Toriella Iezzi, segretario di Roseto al centro. E poi ancora la sentenza clamorosa. Il Tar boccia la tassa di soggiorno rosetana. ha accolto il ricorso presentato dalle associazioni degli albergatori e dalle opposizioni. Atti annullati. Le motivazioni. Il canguro adottato per evitare di discutere le osservazioni della minoranza contrasta con il regolamento comunale. e andiamo ora, apriamo la parentesi dello sport con cui andremo a chiudere come sempre questa edizione di mattino 6. Siamo sullo sport sul quotidiano della città e quindi il Teramo in primo piano. Sparacello subito in campo contro la Samb. L'ultimo arrivato potrebbe affiancare Zecca alla Riviera delle Palme. Speranza è ancora indisponibile. Sabato ricomincia la Serie C. Biancorossi subito la prova derby aspettando l'attaccante che manca per completare il reparto avanzato. Giorgi dovrebbe partire dalla panchina perché non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Poi quest'oggi c'è il turno infrasettimanale di Serie D. Notaresco terzo cerca i tre punti contro l'Agnonese. Oggi turno infrasettimanale di campionato. Il Rossoblu in casa senza l'infortunato Salvatori. Parentesi con le testate nazionali. Questo pomeriggio peraltro si gioca la finale di Supercoppa italiana a Jedda. Chiaramente se ne parla diffusamente nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi. Praticamente l'intera prima pagina della Gazzetta dello Sport dedicata alla finale di Supercoppa. Chi è lo sceicco? Si chiede la Gazzetta. Da un lato Cristiano Ronaldo, dall'altro Gonzalo Higuain, i due attaccanti di Juventus e Milan. Rossoneri sfavoriti ma spesso in questa finale i valori si livellano. CR7 re delle gare decisive. Higuain tra rivincita, l'ultima e Chelsea. La sfida dei due ragazzi del 97. Bentancur contro Paquetà. E poi ancora la finale proibita. Titola il Corriere dello Sport. Juve-Milan a Jedda. Ecco la Supercoppa più discussa e persa tre volte da Allegri. E poi alcuni richiami in basso. Rinuovo Icardi. L'Inter chiama Vanda. Napoli e Lobotka riesplode dell'amore. Lazio che ha a fare. Wesley a luglio. E quindi tutto sport. Cristiano da rabbia. Pipita di rabbia. Supercoppa italiana. Juventus-Milan a Jedda. Ora è 18.30. 25esima finale in carriera per CR7 che vuole alzare il suo primo trofeo in bianco-nero. Vigilia tesa per Higuain. Al centro di un'intricata matassa di mercato. Milan-Juve-Celsi. Genoa-Lipsia. Poi in basso alcuni richiami. Toro Mazzari chiama Millico da due giorni con i titolari. La Bassano sul podio nel gigante di Coppa. E siamo allo sci a Plan de'Corones in particolare. E poi tennis paralimpico. Giulia parte dallo slam per arrivare a Tokyo 2020. Torniamo alle testate locali. Siamo sul centro con il Pescara in evidenza in questa pagina. Classe e gol. Capone scalpita pillonna. Un rinforzo in casa. L'attaccante è pronto al rientro dopo il lungo stop per l'infortunio al piede. Finalmente il tecnico punta su di lui ma la batteria degli esterni è affollata. E poi sul fronte mercato. Macin-Genoa. Il Delfino vuole almeno 4 milioni. Asse caldo tra Preziosi e Sebastiani. Volata finale per Tuminello. Si pensa a Crivello. Sondato ben al one. E poi per la Serie C. Teramo chiede i gol a Sparacello. Qui grazie a Maurizio. Il nuovo attaccante è pronto per la San Benedettese. Ho scelto il diavolo per il legame che ho con il tecnico. Poi dilettanti. Spoltore Capistrello. Palleschi. Replica a Ronci. Oggi le 14.30 i recuperi. Eccellenza in campo con Amilernina Torrese e Nero Stellati. San Buceto. Andiamo a chiudere con le due pagine di sport del messaggero Abruzzo. Una vittoria per i dieci anni. Domenica il compleanno del Delfino Pescara 1936. Di fronte c'è la Cremonese. Bancoschi, l'attuale vicepresidente del Delfino. Mi coinvolse De Cecco. Tanti momenti bellissimi. Alcuni difficili. Mercato. Tuminello. Scamacca. Testa a testa per l'attacco. E poi il basket. Sharks. Busciati saluta e va a Roma. Il Roseto così alleggerisce il proprio budget. Il giocatore albanese era il più pagato della squadra. E poi ancora Serie C. Sparacello sarà il bomber anti-Samb. Dopo le partenze di Baccio Terracino e Piccioni. Maurizzi lo schiera assieme a Zecca. Non ho problemi a giocare da primo o seconda punta. Campitelli apprezza le mie qualità. E poi in vista del turno di Serie D di questo pomeriggio la vastese schiera e rinforzo Cesarano. Oggi l'Aragona arriva alla San Giustese. Serve il riscatto. Avezzano col Castello servono i punti salvezza. Out Besana e Bisegna. I Bevis vincono il premio Fair Play. E poi ancora Notaresco con l'Agnonese per la corsa playoff. Per il basket di Serie B. Amatori Teramo. Coach Bianchi fa le carte al derby. L'allenatore Abruzzese è stato alla guida di entrambi i club. Finisce qui questa edizione odierna di mattino 6. Vi ricordo gli appuntamenti con l'informazione del TG6 con le tre edizioni principali alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. E vi ricordo anche gli appuntamenti con lo sport perché come abbiamo potuto vedere dalla rassegna stampa oggi c'è il turno infrasettimanale di Serie D e allora ci sono anche i programmi sportivi di TV6. Quelli che normalmente vedete la domenica, l'Abruzzo del pallone, questa sera alle 19.30 con la conduzione di Jacopo Forcella per vedere tutti i servizi e le interviste delle partite del pomeriggio. Ma per il racconto delle gare del pomeriggio non perdete neanche l'appuntamento con Diretta Stadio a partire dalle 14.25 circa e comunque alla fine della prima edizione del TG6. Dunque Diretta Stadio. Grazie a Claudio Di Giacomo in regia, grazie a voi per la cortese attenzione. Buona giornata. Grazie a tutti.